Siamo con Alberto Marusso, presidente della Rugby San Donà. Presidente, innanzitutto, lei è stato eletto portavoce di quello che è in nuce, in embrione, il progetto della Lega Rugby. Ci spiega in particolare la genesi di questo progetto? Sì, è vero, sono stato nominato portavoce da parte dei presidenti, con i quali comunque concorderemo ogni tipo di azione e di iniziative. La genesi, ci eravamo già parlati l'anno scorso con tutte le società di eccellenza e io avevo sempre percepito in ogni caso il desiderio di provare a fare qualcosa di concerto con la federazione per provare a migliorare alcune peculiarità, alcune criticità che noi riteniamo essere evidenti soprattutto nel campionato di eccellenza. Poi per motivi che possono essere riconducibili anche alle esigenze di ognuno, alle problematiche di ognuno, quindi alla testa rivolta anche ad altre cose da fare, ci siamo un po' persi via. L'occasione per un incontro c'è stata data, nel senso che io ho mandato un messaggio a tutti i presidenti per incontrarci a Firenze in occasione del test match con il Sudafrica siamo stati ospiti del presidente Lucibello, nuovo arrivato tra l'altro e da lì abbiamo cominciato a parlare proprio in maniera molto serena di quello che potremmo fare insieme sempre in una logica di sviluppo che racchiuda un po' le problematiche e le criticità che sono comuni a tutte le società, quindi senza assolutamente fare riferimento a situazioni interne. Da questo poi è stato un incontro molto piacevole, terminato conviviale, lo definirei, e poi da lì è seguita una nuova riunione a Reggio Emilia alla quale abbiamo dato seguito con questa iniziativa, con questa struttura embrionale che non è altro che la massa dell'eccellenza che nomina un portavoce che nell'arco temporale di sei mesi sia in grado di lavorare su alcune tematiche che abbiamo individuato, il nome del campionato, la struttura piuttosto che i permit, quindi cose che riteniamo siano di reciproco interesse non solo per i club di eccellenza ma per le franchigie stesse e per le federazioni. Quindi ecco tutto come si è svolto e come appunto ha avuto in questo momento questo epilogo con la nomina del sottoscritto come portavoce ma portavoce del gruppo dei presidenti che prenderà ogni decisione in merito ad ogni iniziativa. Nello specifico, Presidente, parliamo di queste problematiche, di queste criticità come le ha definite lei che sono comuni un po' a tutte le società? Siamo tutti quanti consapevoli per esempio che il campionato di eccellenza abbia bisogno di ritrovare l'importanza, la centralità che secondo noi merita all'interno del panorama nazionale. E' chiaro che qui dobbiamo confrontarci un po' con tutte le problematiche che possono riguardare questa o quella società e parlare anche di, chiamiamoli così, punti fermi entro in quali muoverci per poter proporre appunto un campionato che sia sempre più interessante e soprattutto proprio adeutico a quello che è la cosiddetta fascia alta, ovvero quelli che dovrebbero essere i maggiori club, i giocatori personistici, quelli che poi andranno in nazionale. Quindi parliamo di una serie di considerazioni che possono essere fatte in merito all'utilizzo dei permit player di concerto con le franchigie, strutturare, normare, razionalizzare questo tipo di scambio appunto, magari anche portando a un discorso di reciprocità con il club. Quando non vengono utilizzati certi giocatori dalle franchigie perché tenerli fermi piuttosto che invece farli giocare, ma anche lì per garantire equidistanza, equità ad una struttura, ad un campionato, c'è bisogno di regole che siano assolutamente ferme, condivise dai club e dalla federazione delle franchigie per poi lavorare con estrema serenità. Noi siamo qui perché ci riteniamo degli attori principali all'interno di una struttura, di un movimento, di una federazione e siamo semplicemente interessati affinché tutto vada per il meglio. Siamo perfettamente consapevoli del fatto che se la nazionale vince stiamo meglio tutti, se le franchigie fanno bene siamo tutti contenti, tifiamo tutti per il rugby italiano e vorremmo venire ascoltati su determinate questioni perché abbiamo la percezione reale delle cose. Questo è un mio pensiero per cui ritengo che fare proposte, portare suggerimenti, punti di vista alternativi che siano provenienti da chi è sul campo e ha perfettamente chiare quali sono le problematiche, vivai, campionati, sviluppo, formazione eccetera, noi siamo qui per tendere una mano. Ecco, è chiaro che tutto questo è una cosa che è un progetto in divenire. Noi in questo momento riteniamo di poterci soffermare su due o tre cose nell'arco di qualche mese per vedere se questa riunione, questa unità di intenti possa portare concretamente a sviluppare nuove idee, nuove possibilità, tutto per il bene del movimento italiano. Due o tre cose ha detto lei, quali in particolare e come si possono sviluppare a suo avviso? Beh, innanzitutto noi puntiamo a una denominazione diversa del campionato, siamo unanimemente d'accordo sul fatto di chiamarlo campionato di Serie A, semplicemente per il fatto di uniformarci a quello che è nella testa dell'italiano il campionato più importante nazionale. Faccio un esempio, il calcio ha il campionato di eccellenza che comunque è riferito a situazioni di categorie inferiori e non le nascondo che quando andiamo a proporci anche cercando delle partnership finanziarie eccetera, quando nominiamo l'eccellenza fanno subito il parallelismo con una realtà del calcio che invece è totalmente diversa. Ecco, noi in questo caso riteniamo che possa essere uno strumento più performante su tutte le questioni. C'è la cosa di interesse per tutti la riforma dei campionati, del cosiddetto trofeo eccellenza barra Coppa Italia, coinvolgere anche altre società, della Serie A, del territorio, il discorso dell'utilizzo della piattaforma streaming che è già in fase di discussione attraverso l'opera dei delegati appunto delle società di eccellenza che sono la dottoressa Gualandi del Reggio Emilia e Sandro Vaccari, il presidente del Calvisano. Quindi c'è carne, c'è materiale, ma siamo perfettamente consapevoli che in una situazione di sviluppo, di inizio, di start-up, per usare un termine che va tanto di moda adesso, non vogliamo andare a fare passi più lunghi della gamba. Cerchiamo di capire fin dove all'inizio siamo in grado di proporre delle alternative, delle soluzioni, eccetera. Da qui a sei mesi. A sei mesi se vediamo che siamo riusciti ad andare d'accordo, a portare un pensiero comune, a dialogare in maniera costruttiva con la federazione, eccetera, allora potremmo pensare a sviluppare qualcosa di ancora più strutturato che possa gestire nel futuro guardando e intercettando altri tipi e altre cose che possono essere il mercato televisivo piuttosto che streaming, piuttosto che sponsor di campionati che abbiano interesse entrare, eccetera. Ecco, questa è la nostra idea. Io ritengo che siamo davvero un partner in questo senso con la federazione perché magari loro hanno anche tante altre cose a cui pensare e la nostra idea è proprio quella di relazionarci proponendo in maniera propositiva. Io poi personalmente sono una persona estremamente conciliante e quindi cerco di trovare sempre il modo di parlare con il mio interlocutore. Ma, ripeto, quando ci sono delle entità, delle realtà che si mettono intorno a un tavolo e che hanno ben chiaro in ogni caso qual è il loro interesse comune, stare bene per stare meglio tutti, eccetera, quindi lavorare in un discorso di crescita, credo che approfittando anche del fatto che ci sono nuove società, nuovi dirigenti, nuovi presidenti, perché c'è Lucibello, c'è Corodo Emoliano, c'è Sottoscritto. Insomma, si sta un po' rinnovando la struttura dirigenziale e credo che sia un'opportunità da accogliere. Rispetto ad un passato neanche troppo remoto, c'è unità di intenti, come si diceva prima, e questo, di fronte a tanta carne al fuoco, è sicuramente un ottimo punto di partenza. Lei che ne dice? Certamente sì, l'unità di intenti è andata anche dal fatto che non solo andare a vendere o a spaccare le montagne, eccetera. Stiamo parlando di cose che possono essere fatte, concrete, non trascendentali, ma che possono e che fanno bene, di cui abbiamo estremamente bisogno non solo noi, ma anche gli altri attori di questo movimento italiano. L'unità di intenti, che specialmente nella riunione di Reggio Emilia, è stata marcatamente percepita, soprattutto anche da un intervento che a me è piaciuto molto, del Rovigo, che proprio ha, come dire, che era stata un po' la voce più critica nel passato riguardo questa cosa qua, invece con una grande, secondo me, maturità e con un grande, come dire, desiderio di propositivo si è messo anche lui a disposizione, eccetera, quindi trovo che in questo momento i tempi siano maturi per portare avanti certe iniziative.